ragazzi bentornati altro episodio dedicato alla compravendita qui su fc24 entriamo subito nel dettaglio ma prima vi ricordo ovviamente di lasciare un like un commento e di guardare in descrizione questo video perché ci sono i link c'è il link per il gruppo telegram con il gruppo chat della compravendita ripeto è gratis è per tutti non ci sono contenuti esclusivi questo video è uscito in anteprima per gli abbonati gli abbonati al canale ricevono soltanto i video in anteprima e quindi hanno un vantaggio sulla concorrenza ma non ci sono contenuti esclusivi quindi se sei interessato alla compravendita entra nel gruppo telegram ti aspettiamo siamo già più di mille e quindi per qualsiasi dubbio siamo a vostra disposizione ragazzi oggi vediamo come fare la compravendita con gli incontri principali ci portiamo avanti perché le carte vanno prese prima ragazzi ora vi spiego quello che andremo a fare è molto importante perché si possono fare tantissimi crediti con gli incontri principali infatti credo di aver lasciato nel gruppo telegram qualche vecchio messaggio con qualche screen dell'anno scorso per farvi capire un po come funziona è quello che andremo a fare ci sono diverse partite molto interessanti quello che faremo noi ogni settimana è far uscire un video del genere ragazzi tutorial compravendita sugli incontri principali che ci saranno ogni settimana ok quindi ci siamo segnati delle partite io e i miei mod i miei carissimi mod che mi danno una mano grazie di tutto veramente sono stupendi milan lazio barcellona siviglia bayern lipsia monaco marsiglia e tottenham liverpool queste sono le squadre che abbiamo scelto e andremo a prendere delle carte allora ragazzi prima di prendere le carte dovete decidere ci sono due modi per fare crediti con gli incontri principali uno è vendere in hype quando la gente pensa che quella sfida stia per uscire di solito succede sempre il giovedì il mercoledì notte tra il mercoledì notte e il giovedì prima delle sette perché vi ricordo che gli incontri principali escono sempre il giovedì alle 19 si crea quell hype su determinate partite ad esempio possiamo immaginare delle carte del milan che all'improvviso magari si prendono a 300 a scarto per tutta la settimana fino al mercoledì e poi all'improvviso il mercoledì notte comincia quell hype per milan lazio e le carte di milan e lazio cominciano ad alzarsi fino alle 6 e mezza 18 e 30 intendo del giovedì in quel caso voi magari avete già un bel profitto perché che ne so avete già raddoppiato ok avete preso delle carte a 300 e le potete vendere a 650 adesso ve lo voglio far vedere perché magari facciamo così è un po più magari capite di più vedendolo prezzo massimo 300 adesso stiamo parlando di milan lazio vedete metto prezzo massimo 300 qualità andiamo con gli oro comuni perché magari non avete ancora tanti crediti per prendere delle carte rare e vi buttate su i ruoli principali che vi ho detto che di solito sono dc cc e att ok vediamo gli atti ci sono degli atti della serie a e quello che dovete fare adesso in questo caso questo è il primo modo per fare compra vendita è non focalizzarvi sulle nazionalità che non sono buone per le sbc di solito quando si va a fare un tipo di compra vendita per gli incontri principali si mettono sempre top nazionalità in questo caso partiamo sempre da squadra e campionato della stessa nazione quindi se il campionato italiano è appunto italiano andremo a cercare degli atti dcc o dei dc italiani prezzo massimo 300 e voi che fate fate tutte offerte ragazzi tutte offerte sono a 300 ok non ne prendete troppo perché scusate troppi perché poi andrete a fare un'altra cosa andrete a fare questo andrete a scegliere che ne so scusate non qui qui mettete serie a sempre andrete per club milan magari togliete prima questo filtro e andate per questa situazione ok qui abbiamo un florenzi abbiamo uno sportiello i portieri comunque servono sempre ragazzi sportiello 77 può andare molto bene ad esempio da prendere vedete che ci sono già tutte offerte a 300 c'è qualcuno che si sta già portando avanti per farvi capire quindi vi prendete un po di carte generali senza andare fissi su milan o lazio questo vale per tutte le partite quindi abbiamo fatto questa cosa per milan lazio faremo la stessa cosa per barcellona siviglia adesso vi faccio vedere ve lo ripropongo nello stesso modo quindi ricapitolando andrete a prendere queste carte del milan o della lazio adesso vediamo chi ci sta della lazio ok non prendete cdc esterni non prendeteli quelli prendete soltanto magari il terzino destro sinistro ci può stare però non focalizzatevi su troppi ruoli che magari possono essere secondari ok vediamo la lazio che cosa ha vedete c'è un cataldi però cdc rovella invece già andrebbe molto bene ragazzi e li prendete queste sono quelle un po più specifiche poi vi potete spostare un pochettino ne prendete appunto così ragazzi sempre ad esempio fagioli cc attt e dc poi qualche portiere ci può anche stare però i portieri sono molto a volte si alzano tanto a volte no quindi occhio con i portieri ragazzi poi ad esempio prendiamo spunto da barcellona siviglia questa è la prima lezione praticamente di compravendita ragazzi quindi se non state capendo è normale adesso ve lo faccio rivedere con un altro campionato cosa facciamo allora noi sappiamo che c'è barcellona siviglia quindi voi che cosa fate prima cosa barcellona e siviglia giocano nel campionato spagnolo andiamo a mettere paese regione spagna campionato liga e sports eccola qui oro comuni 300 no qui potete mettere anche scusate partiamo dai dc ovviamente dc sono la cosa migliore ragazzi i dc sono la cosa migliore e cosa fate qui ve ne prendete un po ok non tantissimi ve ne prendete un po avete una pila di 100 posti libera che ne so ve ne prendete una ventina perché ovviamente dovete variare non potete prendervi solo barcellona siviglia poi c'è anche bayern lipsia monaco marsiglia milan lazio tottenham liverpool dovete prendere tutte queste carte di tutte queste partite che ci saranno perché più variate più possibilità di fare soldi avrete poi c'è un'ultima cosa che vi spiegherò però adesso andiamo avanti così dopo che avete preso tutte queste carte che cosa fate vi spostate su lo specifico come vi ho detto prima quindi togliete no lasciate questo e mettete le squadre che abbiamo barcellona e siviglia proviamo barcellona però ha delle carte molto importanti perché sono molto forti e quindi che fate voi vi spostate sul siviglia vediamo dc ancora non c'è nulla di oro comune vi spostate ancora trovate atti vediamo che cosa c'è c'è rafamir questo può essere molto buono però potrebbe avere un costo leggermente superiore quindi voi che cosa fate andate a vedere a quanto sta rafamir ok si vende a 400 ragazzi lui può salire però lui può salire può arrivare potenzialmente sopra gli 800 se dovesse uscire la sfida ma qui entra in gioco questa è perfetta questa carta qui entra in gioco una scelta da fare vendere in hype significa avere garanzie di guadagno perché questa carta potenzialmente dal mercoledì fino al giovedì pomeriggio può arrivare veramente e sul serio sui 750 800 crediti e quindi permettervi di raddoppiare il vostro investimento praticamente ma c'è un ma perché se voi decidete di non vendere questi rafamir perché pensate che dopo l'uscita della sfida del civiglia questa carta possa toccare i 1200 1300 1400 crediti che sarebbe un grandissimo guadagno quello ragazzi vuol dire fare un investimento a rischio quello vuol dire scommettere e quella è una vostra scelta io non vi dirò mai cosa dovete fare con quelle carte perché è una vostra scelta personale se posso darvi un consiglio io mi sono tolto grandi 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 soddisfazione a vendere sempre in hype poi è ovvio perché allora io vi faccio una domanda abbiamo 100 posti liberi in lista trasferimenti ne abbiamo altri 50 negli obiettivi mercato e se mettessimo 100 carte in vendita in hype e magari qualcosina da parte da vendere subito dopo le sfide sarebbe la cosa perfetta no esatto è proprio così io vi consiglio di vendere tutto quasi tutto il vostro investimento in hype quindi avere un guadagno sicuro vi faccio un altro esempio che ne so mettete caso monaco marsiglia ok andiamo in ligan questa è un'altra partita no scusate sì monaco marsiglia francese andiamo a vedere il monaco eccolo lì proviamo i dc ci sta qualcosa ok qui vedete sono delle squadre comunque che possono trovare queste difficoltà ovvero che non c'è una buona nazionalità non c'è una buona nazionalità in questi ruoli possiamo provare anche il cc perché abbiamo questa occasione il cc controllatelo sempre per ultimo ragazzi e non abbiamo neanche un cc buono quindi ci spostiamo al marsiglia e vediamo un po che cosa abbiamo ok anche qui situazione non ottimale non ottimale per il cc andiamo ci spostiamo sui dc e abbiamo un argentino questo può essere abbastanza buono probabilmente lui si riesce a prendere sui 350 400 può essere abbastanza buono perché comunque è top nazionalità voi vi dovete focalizzare su una cosa ragazzi molto spesso queste sfide degli incontri principali non vanno a richiedere magari un giocatore specifico del marsiglia ma ti vanno a chiedere un giocatore che sia della ligana l'importante è che che comunque spostandovi in questo modo voi riusciate comunque a dare delle possibilità per fare intesa e cosa c'è di migliore di una top nazionalità niente quindi voi le i giocatori che sono magari della quinea ghanesi lasciateli perdere ok lasciateli perdere perché potreste rischiare è anche ovvio che comunque noi facciamo una un tipo di compravendita a basso rischio praticamente nullo quindi vi assicuro che non andrete mai a perdere crediti praticamente mai non è mai successo a me personalmente e anche a tutte le persone che mi seguono e che fanno le cose come consiglio io ovviamente poi se c'è una persona che mi chiede posso scommettere posso rischiare io vi dico se se ve la sentite sempre però dovete metterlo in chiaro cioè dovete stare in pace con voi stessi nel caso in cui andasse male perché quello è un rischio può andare bene come può andare male poi è ovvio ci saranno dei momenti in cui io mi sentirò di darvi un consiglio per rischiare vi dirò guardate questa c'è questa carta che secondo me raddoppierà e là vedremo poi come andrà ma ne parleremo più avanti ok non so se avete capito arriveranno molti video così e vi assicuro che vi entrerà in testa vi entrerà tantissimo in testa quando avete preso tutte queste carte ragazzi quello che dovete fare è andarle a posizionare sul mercato a scaletta ok da subito non dovete aspettare se volete vendere in hype vendete subito quindi prendete a 300 mettete prezzo minimo 450 prezzo compra ora 500 la seconda carta mettete prezzo minimo 500 prezzo compra ora 550 terza carta prezzo minimo 550 prezzo compra ora 600 avete capito a scaletta tutte le carte che prendete vanno messe per un'ora in asta continuamente a scaletta quindi partite da bassi e vi alzate piano piano fino a 750 magari 650 non alzatevi troppo e poi ricominciate la scaletta avete 10 carte fate una scaletta da 3 carte poi ne cominciate una da capo da 3 carte un'altra da capo da 3 carte poi vi farò vedere bene perché questo è il primo video sugli incontri principali vi farò vedere come andrà e quello che ho comprato e venduto e poi un ultimo consiglio una cosa importante quando avete tante carte e magari non sono state ancora tutte vendute quando usciranno gli incontri principali ovvero il giovedì questo ragazzi è fondamentale segnatevelo il giovedì alle 18 e 15 la vostra lista deve essere partita cioè voi dovete mettere le carte in vendita alle 18 e 15 perché alle 19 e un quarto finirà la vostra lista trasferimenti scadrà ok ed è importante perché alle 7 e un quarto ci sta tutto l'hype per gli incontri principali che sono appena usciti e quindi le vostre carte saranno sempre le prime ad uscire a tutti gli altri che vogliono cominciare a fare gli sbc è importante fidatevi è molto molto importante non dimenticate quando dovete vendere le vostre carte aspettate magari le 18 e 15 per far partire l'ultima listata e far finire le vostre in scadenza le vostre carte alle 19 e 15 è importantissimo ragazzi perdonatemi se non sono stato bravissimo nello spiegarvi perché essendo il primo e non avendo carte ancora da mostrarvi è un po più complicato ma appena avrò la modalità e il modo di farvi vedere la mia lista trasferimenti grazie a questi incontri principali vedrete che capirete molto ma molto ma molto di più molta gente ha iniziato già a farlo e sul sul gruppo telegram sono contento io vi aspetto lì e se volete ricevere questi video in anteprima su come fare su come muoversi dovete solo abbonarvi su youtube per il resto se non vi interessa sono comunque contento io vi aspetto su telegram e do una mano a tutti senza chiedere abbonamenti esclusivi o cose varie quelle cose non mi piacciono quindi va bene così aperto a tutti ci vediamo io vi aspetto e vi mando un abbraccione ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti